L'ascolto è l'arte di stare in relazione, ma una relazione implica un altro da me. Posso fare a meno dell'ascolto dell'altro? Ne parleremo martedì 9 febbraio nel secondo appuntamento del corso Ascoltare e Farsi Ascoltare insieme allo psichiatra e diacono Tonino Cantelli, sempre in diretta alle ore 20 sul canale YouTube di Radio Più Roma.